Nello scorso video abbiamo visto in generale come affrontare il tema e quindi le diverse fasi di lavoro che dobbiamo svolgere per realizzare un buon tema. Oggi andiamo a vedere invece nello specifico la prima fase, cioè dalla scelta del titolo alla preparazione della scaletta. Dunque la prima cosa da fare è, lo abbiamo visto, leggere attentamente il titolo e capire cosa il titolo chiede di fare, cosa pretende la traccia, cosa vuole la traccia, cosa ci si aspetta. Innanzitutto bisogna capire l'argomento che bisogna sviluppare, bisogna capire lo scopo del testo e quindi il tipo di testo che dobbiamo scrivere. Abbiamo visto ci sono diversi tipi, descrittivo, narrativo, commento, eccetera. Dobbiamo quindi analizzare bene il titolo per capire se all'interno del titolo ci sono le indicazioni. Magari ci viene indicato appunto anche a chi dobbiamo rivolgerci. Scrivi una lettera a un tuo amico dove racconti bla bla bla. Vuol dire che devo raccontare qualcosa ma in forma di lettera, scrivi una lettera, indirizzata a un mio amico. Scrivi una lettera a un tuo amico e racconta bla bla bla. Questa traccia ci dà già una serie di informazioni di cui dobbiamo tenere conto per scrivere il tema con la forma richiesta corretta. Una volta che quindi abbiamo capito qual è la forma corretta del testo che dobbiamo produrre, dobbiamo svilupparne l'argomento e quindi capire sostanzialmente di cosa dobbiamo parlare, quali informazioni, quali dati, quali parole dobbiamo mettere all'interno del tema. Per farlo dobbiamo o possiamo scegliere di fare almeno due cose. Un brainstorming, e quindi una specie di mappa delle idee, una specie di mappa concettuale, e ancora più importante una scaletta. Ora come esempio prenderemo una traccia che ci dà molta libertà dal punto di vista della forma del testo. Ad esempio potreste trovarvi un tema di fronte che si intitola i social network, senza nessun'altra specificazione. Vuol dire che qui possiamo noi scegliere che tipo di testo scrivere. Possiamo scrivere un testo argomentativo, che sarebbe quello più diciamo indicato, ma possiamo anche raccontare qualcosa che riguarda i social network. L'importante è centrarsi sui social network. Quindi possiamo affrontare una prima fase. Prendiamo il titolo, lo scriviamo proprio fisicamente al centro di un foglio bianco e facciamo una serie di collegamenti. Social network, posso mettere quali, Instagram, Twitter, eccetera. Posso mettere quando si usano, come si usano, chi li usa, perché si usano, cosa vuol dire abusare dei social network, cosa vuol dire usarli nel modo corretto, quali possibilità danno, quali pericoli diciamo possono avere, quale pericolo può avere appunto usarli troppo eccetera. Questa è una prima fase di mappa concettuale. Una volta trovati una serie di spunti, dobbiamo però iniziare a mettere giù delle idee in una maniera più logica, più chiara. Dobbiamo fare una scaletta. La fase della scaletta, lo ripeto, è fondamentale. Da insegnante vi dico che chi non ragiona, nel senso se diventate bravi, poi può essere un lavoro che potete fare anche solo mentalmente, ma chi non inizia scrivendo una scaletta non raggiunge quasi mai dei buoni, degli alti livelli nella resa del tema, perché la scaletta è fondamentale per organizzare le idee, per capire cosa dirle, per far sì che il tema sia equilibrato. Teniamo sempre appunto il nostro esempio sui social network. Allora possiamo partire con una definizione. Cosa significa social network? Quali sono i social network? Quali caratteristiche hanno questi social network? Quando si usano in generale? Poi possiamo parlarne dal punto di vista, possiamo dire, positivo e negativo. Una scelta più difficile in questo senso, ma che paga di più è trovare un aspetto positivo e il suo contrario. Ad esempio, i social network permettono di comunicare con moltissime persone, benissimo, ma il contrario può essere portano ad isolarsi nella vita di tutti i giorni. I social network permettono di entrare in contatto con persone molto lontane da noi, ma ci allontanano, ci possono allontanare dalle persone vicine a noi. I social network ci permettono di esprimere molte idee con libertà, dall'altra parte però ci tolgono la responsabilità di esprimere queste idee perché ci nascondiamo dietro ad esempio a falsi nickname eccetera. Questa è un'idea di trattazione, quindi ho una prima definizione, la parte iniziale, poi ho una serie di punti di pro e di contro e poi arrivo sviluppando pro e contro a una, diciamo, chiusura, quindi ad arrivare a sintetizzare quest'idea. È importante nella fase di sintesi non ripetere banalmente quanto si è scritto prima, ma magari porre l'accento su un aspetto più importante o fornire un avviso e un'altra parte fondamentale di qualsiasi tema è l'equilibrio tra il dato oggettivo, quindi quello che so dei social network in questo caso è il dato personale, cioè come io uso i social network, qual è il mio rapporto con i social network. Quindi nel parlare dei pro e dei contro devo anche inserire una mia riflessione personale sia sull'aspetto generale che sul mio aspetto particolare. Nel tema è sempre importante trovare questo equilibrio tra la parte generale e la parte personale. Un tema che parli dei social network anche in modo perfetto, ma trattandoli solo in maniera generale, un tema che potrebbe, diciamo, essere scritto, tra virgolette, da chiunque, non è un tema efficace, non è un tema che viene premiato dall'insegnante. Un tema invece che ha dei punti di trattazione generale, delle riflessioni generali, ma anche il vostro punto di vista particolare, la vostra idea sul social network, i vostri comportamenti per quanto riguarda i social network, questo è un tema invece che viene premiato. Colgo l'occasione per dirvi come sia importante nei temi essere sinceri, non perché l'insegnante voglia farsi fatti vostri, ma perché la sincerità vi permette di essere più autentici, più chiari, più precisi. L'essere invece tra virgolette bugiardi, il non dire le cose come stanno, vi porta a scrivere un testo che non è chiaro, non è chiaro, non è approfondito e non è efficace quanto invece un testo autentico, un testo che prende veramente spunto dalla vostra esperienza, dal vostro pensiero e dalle vostre idee. Ricordate sempre che il tema, lo scopo generale del tema, è darvi modo di esprimervi, di esprimere voi stessi, di riflettere, di ragionare. Se manca questo aspetto, manca una parte consistente del compito che vi viene assegnato. A questo punto chiudo sul tema, vi lascio come sempre l'invito a fare domande nei commenti, eventuali richieste per video futuri nei commenti, e vi lascio, vi rimando anzi alla prossima puntata, dove approfondiremo la seconda fase, cioè quella della stesura del tema.